ragazzi eccoci qui buon pomeriggio a tutti mi sentite vedete il mio schermo come state tutto bene vado a prendere allora si dovreste sentirmi che collego qui le cuffie che mi dicono che si stanno per scaricare non vorrei mai poi non riuscire più a parlare nel frattempo datemi un feedback audio e video allora prendono prendo anche la sezione delle domande ed eccoci qui che andiamo a fare un po di analisi quest'oggi su gli strumenti più interessanti non so se siete riusciti a prendere il long che ho dato questa mattina su s p 500 che all'interno del gruppo traders club sicuramente è riuscito a prenderlo al momento giusto arrivo eccoci qua audio e video tutto ok comunque volevo ricordare che smp ha raggiunto il primo obiettivo eccolo qua 4030 4032 siamo su un time frame orario in questo momento la tendenza è rialzista il giro è completato guardate che candele rialziste con corpi importanti ogni ritracciamento viene comparato e questa è la fase attuale la fase attuale dell'indice s p 500 che ricordiamo essere anche il l'indice che traina tutta l'economia mondiale è al rialzo c'è alexandre che dice che è long da 3984 quindi fammi vedere qui dove sei entrato 3984 punti ottimo a quindi tu sei entrato anche meglio quindi sei entrato sul ritracciamento di questa mattina corretto qui intorno quindi più o meno dalle 10 alle 11 su questa candela qui giusto vediamo vado a zoomare ulteriormente guardate anche come rispetta bene le linee diciamo in frame orario esatto dice alexander bene bene sono contento le s p 500 ultimamente stanno delle ottime soddisfazioni l'altro giorno non preso un piccolo stop però ovviamente nel trading ricordiamoci sempre che ci sono stop loss e target price la cosa interessante però sapete che durante le sessioni di cimoku a volte possiamo fare trading anche sui time frame inferiori anche sul cinque minuti solo che guardate il comportamento dal dall'apertura in poi allora apertura qui vedete le 15 e 30 con chiusura sui massimi questo era un segnale rialzista incredibile solo che se entriamo long qui dobbiamo mettere uno stop loss al di sotto del minimo stiamo parlando di venti oltre 18 punti che iniziamo sui 20 punti di s più un po troppo largo si poteva rischiare e portare a casa almeno fino in area 4020 quindi erano 11 11 punti di primo obiettivo rapporto rischio rendimento quindi molto basso poi il secondo obiettivo era 4030 rapporto rischio rendimento qui sarebbe stato uno a uno qui anche se il segnale rialzista è bello chiaro è ovvio che con uno stop loss così ampio i rapporti rischio rendimento non sono dei migliori se siete ancora long attenzione perché da qui potrebbe iniziare un piccolo storno perché anche grazie all'indicatore target indicator notiamo che siamo su due target molto vicini però la tendenza è rialzista quindi con un po di pazienza ogni ritracciamento può essere un'occasione di acquisto noi siamo da 3995 primo obiettivo raggiunto il secondo è questo qui per quello prima ho scritto secondo target e target finale globo siamo a 4070 perché l'ho individuato con il target indicator attenzione però perché poi oltre il 4070 è chiaro che andremo a testare il livello chiave successivo qua di 4.100 luca mi chiede se riusciamo a vedere gbp chf 6 short adesso lo andiamo a vedere poi andiamo ad aggiornare anche le posizioni che abbiamo su usd yen in sostanziale pareggio ho diminuito un po l'esposizione ho anche abbassato lo stop per un movimento che non mi è piaciuto particolarmente che però adesso andremo a commentare vedremo anche usd chf vedremo il gold bene rifugio per eccellenza adesso finiamo di parlare di s&p 500 ovviamente dobbiamo parlare di euro dollaro e visto che abbiamo qui sono queste non contatele che sono le posizioni sono posizioni di accumulo di lungo termine quindi non hanno a che fare con il trading eccoci qui euro dollaro è fatto gbp chf allora c'è luca che chiede gbp chf chi è chi ha preso l'ong invece su s&p 500 quest'oggi interessante anche la situazione su gbp chf diciamo che dobbiamo commentare per forza quello che è il franco svizzero che si è apprezzato notevolmente un po contro tutte le altre valute negli ultimi giorni luca ha preso il long quindi molto sono molto contento come vedete ultimamente sto facendo solo l'S&p 500 di indici per quale motivo perché non dico non mi piace dire che è più facile da tradare ma è sicuramente meno stressante e i movimenti sono più chiari quindi sapete che cosa vi dico che io continuerò sugli indici almeno sugli indici americani lascio perdere gli altri due indici che sono un po più difficili da tradare e rimango sull'indice standard and poor che devo dire ultimamente sta dando delle buone soddisfazioni detto ciò però andiamo a fare un'analisi completa non solo sui tempi inferiori magari ci spostiamo anche sui tempi superiori mi chiedete di fare se possiamo entrare long adesso no è un po tardi io direi da questa da questa zona che dobbiamo entrare long se ci saranno le opportunità ma su un eventuale ribasso quindi vi traccio le zone interessanti dove si può valutare un acquisto abbiamo 4.020 4.000 e un attimo che ve lo dico subito 20 e 25 scusate praticamente ah no allora questo l'ho tracciato male perché andava qua e l'altro livello invece è questo qui ecco qua già questa è la prima zona supportiva poi più in basso abbiamo comunque tutto questo tutto questo volume che c'è stato in precedenza eccolo qui ok questa zona qui magari colora l'area del rettangolo trasparente non coloro l'area va bene così facciamo di colore nero questa è una zona volumetrica interessante teniamola ad occhio comunque è chiaro che l'impulso è rialzista e questa è la view mia sul 5 minuti buonasera fabio giuseppe dice ottimo long su sp500 percato lo stop sull'oil sì come detto abbiamo preso anche uno stop sull'oil non molto grande in realtà occhio che se per te colora è uno stop grande forse avevi messo l'esposizione un po alta attenzione perché il petrolio ultimamente si muove molto di più la volatilità media è aumentata nel nell'ultimo periodo quindi se aumenta la volatilità media bisogna diminuire l'esposizione perché se diminuisci l'esposizione rimani all'interno segui quello che è il tuo money management se no no perché quello che stiamo guadagnando adesso è esattamente almeno personalmente più o meno è quello che abbiamo perso sul petrolio ieri poi ognuno però ha il proprio money management eh tra l'altro non voglio è difficile che tutti abbiamo lo stesso money management il petrolio appena esploso questa sfortuna è allora diciamo adesso bravissimi grazie che me l'avete detto andiamo a vedere anche quello che è il petrolio io e scrude è veramente è salito non l'ho seguito io oggi ma no ma di non ci credo vabbè insomma un po' di sfortuna sì però adesso andiamo a vedere quello che è successo e qual era la mia view eh sul petrolio rialzista forse ho messo lo stop loss un po' troppo stretto oppure ho operato con un po' di fretta però adesso vi do la mia opinione in ogni caso abbiamo recuperato e abbiamo recuperato con standard and poor e già questo è un ottimo risultato a mio avviso vedremo di eh gestire anche west di yen se avete altre proposte chiaramente lasciatemele qui che poi io vado a vederle eh la domanda di alexandra c'è possibilità secondo te che continui a crescere anche su prospettiva multi day infatti adesso quello che voglio fare è dopo che abbiamo visto l'h1 eh vedete l'ho già detto gli scorsi giorni questo era un segnale rialzista quindi era da sfruttare poi su qui sul ritracciamento vedete com'è lineare adesso massimi e minimi via via crescenti siamo arrivati sulla resistenza secondo me qui ci sta un ritracciamento a 4020 occhio che si potrebbe acquistare però lo teniamo sotto osservazione se invece proseguiamo anche su time frame superiori e se io mi vado a nascondere mi sono dimenticato c'è un tasto veloce che mi fa nascondere tutti i disegni mi sfugge non me lo ricordo più se qualcuno di voi lo sa me lo dica però guardate time frame giornaliero ok abbiamo il time frame giornaliero la chiusura oggi sopra 4020 è importante in alto a sinistra bravo bravissimo Luca ogni tanto mi dimentico anch'io vedete bravo Luca che l'hai detto qui se avete tanti disegni potete con un clic eliminare tutto così la situazione è molto più chiara ah tra l'altro chi era ieri il trading live si è preso un bel long 2sp500 in diretta quello non sono riuscito a metterlo su traders club o faccio una cosa o faccio l'altra per quello io consiglio sempre di seguire le sessioni in diretta perché se c'è da far scalping non posso proprio materialmente non ho ancora quattro mani me le farò crescere ma non riesco a fare tutte le cose in ogni caso è molto importante la candela odierna come dicevamo ieri dovremmo tenere d'occhio questo minimo questa zona dei minimi perché noi abbiamo e ve lo segno col pennino un bel un minimo poi minimo decrescente ma guardate che ombre importanti che ombre importanti che abbiamo visto qui altra ombra importante una candela quasi un hammer rialzista però con un minimo crescente e da qui guardate le candele verdi qui siamo in piena fase di rimbalzo piena fase di rimbalzo e quindi siamo diretti a mio avviso almeno in area 4070 e poi rotta quella 4100 attenzione però perché come dicevamo in precedenza una volta arrivati in area 4000 e una volta arrivati in area 4100 che sono anche vedete questi massimi qui il 17 16 17 arriviamo su una zona già più difficile da oltrepassare infatti io per quanto riguarda la domanda sul long multi day di S&P 500 lascerei proprio perdere il trend è ribassista e di conseguenza ogni rimbalzo può essere buono per uno short io però non mi posiziono neanche short multi day mi piace di più fare operazioni in scalping tutti i giorni con esposizioni molto alte ma con obiettivi intraday in pochi minuti arrivi come avete visto ieri al trading live arrivi all'obiettivo chiaramente è più complesso farlo ma proprio per questo anche stiamo cercando di fare più scalping live insieme a Giancarlo Prisco anche io cerco di condividere di più con voi le informazioni che riusciamo a cogliere da questi da questi forti movimenti a livello tecnico come dicevo comunque in ottica multi day è difficile superare questa zona ok questa zona qua tutta la zona compresa tra 4100 e 4150 non è semplice da oltrepassare poi lo vediamo qui guardate che mega supportone si era creato supportone che vedete qui rotto con forza rotto con forza al ribasso ok eccoci qui rotto con forza al ribasso questo mega supportone che poi proprio qualche giorno fa stima scorsa ha funzionato molto bene ecco qui vedete da resistenza quindi sappiamo già che questa è una resistenza tecnica ed e sarà difficile oltrepassarla non dobbiamo escluderlo escluderlo però però scusate nonostante non dobbiamo escluderlo nonostante la situazione macroeconomica attuale che non è delle migliori non è delle migliori lo sappiamo perché l'inflazione è molto alta i tassi di interesse sono aumentati continueranno a farlo la crescita economica non sta aumentando ma sta rallentando quindi tutte queste cose ci portano a pensare che l'equity quindi gli indici azionari possono continuare a soffrire ovviamente in un mercato ribassista però ci sono i ribassi ci sono i rialzi e quindi quando ci sono i rialzi noi cerchiamo di prenderli quando ci sono i ribassi cerchiamo di prendere i ribassi come facciamo sul forex multiday ora apriamo delle posizioni short da 4.100 4.125 io direi di no perché noi dobbiamo capire un attimo come si comportano qui i prezzi se si forma una candela di indecisione barra inversione che può essere una doge può essere una shooting star un inverted hammer quello che volete su tutta questa zona che abbiamo commentato comprato dei 4.100 i 4.150 allora in quel caso solamente dopo aver ricevuto una conferma da parte della price action possiamo andare a valutare una posizione ribassista multiday sull'indice standard and pull 500 mentre per quanto riguarda posizioni rialziste la mia risposta è no almeno per quanto mi riguarda rispetto alla mia strategia però come vedete i long li facciamo è già diversi giorni che facciamo dei long no quindi nel 3 il trend primario ribassista possiamo fare e quindi lo shortiamo però all'interno di un trend ribassista ci sono i rimbalzi e quindi possiamo prendere anche quelli se ce la facciamo se il mercato non è troppo nervoso e si comporta bene come oggi lo possiamo fare sempre non non è sempre così quando non è così si prendono più stop questo è il fulcro del discorso allora tipo shortarlo a 125 dice luca sì come ti ho detto però serve una conferma allora Filippo a te Giancarlo vi vorrei vedere live tutti i giorni è avrebbe un costo abbastanza alto questo comunque complimenti per il long di ieri mi fa piacere che ti sia piaciuto long ieri però stiamo facendo più soldi oggi stiamo facendo più cioè i punti che abbiamo fatto sono di più oggi mi pare perché 40 punti abbiamo al momento anzi 45 punti abbiamo fatto da questa mattina dov'è usate che ogni tanto il mouse mi abbandona dove sei eccoti qua allora oggi abbiamo fatto long da a 3.993 adesso siamo a 4.041 non è male in ogni caso il nostro allora oggi il nostro lo abbiamo fatto io non vorrei andare a fare over trading e andare alla ricerca di ulteriori trade long perché qui non scende niente qui sale e basta se da qui alle ore 17 ci sarà una ci sarà un ribasso lo andremo a prendere però i livelli rimangono questi e non ci sono nuovi supporti quindi non abbiamo fretta di operare quelli sono i livelli ma a noi non ci interessa però qua ragazzi se continua così noi arriviamo a 4069 che è il target finale in diretta qui entro le ore 17 ma stiamo a vedere cosa succede 4069 eccoci qua e così abbiamo fatto 75 punti di s&p su un giorno che bello ricordo a tutti che e qui facciamo un po' di pubblicità che va sempre bene perché come avete potuto notare la qualità rimane sempre alta poi va a periodi a volte possiamo prendere più stop rispetto al solito ma tanto a me non è che importi particolarmente io faccio la mia operatività so che quando sbaglio c'è sono anche magari persone che seguono e quindi perdono dei soldi però c'è bisogna seguire per un anno intero un servizio se no non ha senso capisco che se entri un mese non è andato alla grande dici questo è un servizio un po' così non lo seguo più è un errore però poi ognuno fa quello che vuole in ogni caso alla fine dell'anno l'importante è che il conto abbia il segno più e non il segno meno questo è l'unica cosa che conta poi il resto a me non mi interessa io cerco di fare del mio meglio detto ciò sezione appuntamenti insieme a me che mi aiuta a portare questi segni più nei conti e spero che li porti anche a voi c'è il mitico incredibile Giancarlo Giancarlo Prisco quindi con Giancarlo Prisco martedì 31 maggio ore 15 e 15 scalping live in diretta martedì pomeriggio sugli indici americani potete iscrivervi è un evento a pagamento ovviamente anzi costa anche troppo poco a mio avviso ma lui mi ha detto no dai ricca lascia così napoletano lascia così va bene vabbè lasciamo così quindi scalping live se lo volete lo potete comprare qui e come l'ultima volta abbiamo preso long short tutto quello che c'era da prendere quindi è andata bene una volta solo è andata male è però noi lo diciamo sempre quando va male bene detto torniamo ai nostri mercati qua continua a salire tutto e noi meglio di così non possiamo fare attenzione se per caso avete un'esposizione altra potete anche valutare di spostare piano piano lo stop in profit noi siamo long da qui io lascio ho già chiuso il 50 per cento e sto sereno però adesso andiamo con altre con altre analisi perché è importante vedere anche le vostre domande sicuramente che adesso leggo allora gbpnz di un'altra domanda di emanuele quindi gbpnz di gbpnz di interessantissimo devo dire o bello questo bravo mi piace questa roba qua adesso la vediamo poi abbiamo una richiesta su usd cad quella attenzione usd cad che potrebbe scendere molto bene sei entrato short alexander da 1 28 20 va bene ci sta adesso lo vediamo un po questo a livello grafico non mi piace particolarmente ma se vediamo bene la price action non è male come short poi adesso lo andiamo a vedere stop target e tutto quanto e grazie fabio grazie mille alexandre dice grande giancarlo sì assolutamente numero uno e luca mi dice una cosa sul sito riguardo il calendario economico che poi vediamo allora partiamo dalle vostre richieste che secondo me sono interessanti partiamo da gbp chf prima richiesta che è stata fatta prima richiesta che è stata fatta allora gbp chf a livello tecnico una situazione molto interessante a mio avviso cavolo io entrerei short anche adesso però ragioniamoci su un attimo gbp chf me l'aveva chiesta all'inizio vediamo che lo vado a prendere luca ciao luca sono short praticamente da questi livelli ok sei short a questi livelli perché secondo mai visto che c'è stata la rottura del rettangolo e sei entrato sul ritracciamento da una conferma se ho capito quello che hai nella mente esatto ok ecco qua allora allora eccoci qua vedete come c'è stata questa rottura molto chiara c'è stata una rottura molto chiara su questo cross valutario gbp chf tra l'altro è andato a rompere anche un supporto importante qui del 2000 fine 2021 e quello che notiamo è che perché non dobbiamo provare uno short qui questa è la mia domanda sei short da 1,21 tu ottimo quindi andiamo a segnare 1,21 siamo a 1,20 e 60 fai già in profitto di un po' di punti insomma comunque stai in 40 conti di profitto allora la situazione è questa trend il trend era laterale no trend laterale perfetto questo trend laterale ce lo indica anche i cimoco perché le medie continuano a incrociarsi se avete fatto il mio corso lo sapete bene questa resistenza importantissima 1,24 e 50 da qui i prezzi sono scesi con forza quindi impulso che finisce qui piccolo ritracciamento chi lo sa finirà oggi oppure aspetta che ho sbagliato impulso ritracciamento e continuazione che vale un prerettangolo quindi se noi adesso andiamo a tracciare se noi adesso andiamo a tracciare con il nostro target indicator non ho capito perché non va qua fermi tutti ecco non mi va più perché non va l'indicator dai non mi rompere cos'è che non va qua dai scusate ogni tanto ogni tanto gli prende male oh ecco qua quindi impulso e ritracciamento eccoci qui impulso e ritracciamento questa è la situazione il livello di 1,21 è stato rotto al ribasso il livello di 1,21 è stato rotto al ribasso e ritestato proprio nella giornata di oggi trader più aggressivi come il buon Luca hanno deciso di entrare short da 1,21 ed è corretto è un trade corretto trader più conservativi magari attendono la chiusura di oggi e poi operano di conseguenza quello che io farei con loro dovessi entrare al ribasso è questo entrerei short con uno stop loss al di sopra del massimo della candela di rottura che è quella del 24 5 2022 ve lo traccio in rosso così capite che questo è il è la resistenza statica e anche linea guida per il nostro stop loss se i prezzi superano quella soglia si esce come obiettivo invece abbiamo 1,19 e 13 questo potrebbe essere un buon obiettivo a mio avviso ok eccolo qua 1,19 e 13 vediamo se allora lo tracciamo di verde allarghiamo un po' vediamo se indietro combaccia se è un supporto che ha già funzionato in passato sì ci sta ci sta mi piace ok ecco quindi questa questa è la possibile operatività su GBPCHF allora short se per esempio entriamo da livelli attuali abbiamo uno stop loss di 107 punti è un target price di 150 rapporto rischio rendimento non così favorevole però siamo proprio giusti giusti 1,5 1 a 1,5 scusate mentre chi è luca che è entrato qui chiaramente ha un rapporto rischio rendimento migliore perché lo stop loss più o meno sarà qui target price qui vedete 1 a 2,7 il vantaggio dei trader aggressivi è quello di avere poi un rapporto rischio rendimento solitamente maggiore per quale motivo perché se entriamo senza attendere la conferma cerchiamo di prendere il livello perfetto non perfetto ma comunque la soglia resistenziale perfetta senza attendere la conferma successiva del cambio di tendenza tramite una candela di indecisione barra inversione mentre i trader più conservativi cosa fanno attendono la candela che ci dà più conferme che ci dà insomma ci dà più conferme del fatto che ci possa essere successivamente una continuazione al ribasso e cercando quelle conferme si diminuisce il rapporto la qualità del rapporto rischio rendimento perché magari si entra più in basso come abbiamo visto qui è una cosa soggettiva sono due metodi differenti di fare trading e di approcciarsi al mercato però attenzione non è che una è giusta e una è sbagliata dovete cercare di conoscervi e capire quale per voi è giusta quale per voi è meno giusta o sbagliata per me invece sono corrette entrambe per me invece sono corrette entrambe la cosa più difficile ma anche quella più importante è capire le fasi di mercato perché se la fase di mercato è un po complessa da analizzare se è un po complessa da analizzare allora vado cerco di rimanere un po più conservativo se invece vedo che i livelli un po dappertutto stanno reagendo bene in quel caso passo alla modalità un po più aggressiva non è semplice individuare questi due tipi di operatività questi due tipi di gestione delle operazioni però a mio avviso è una cosa molto importante da apprendere insomma cercate di capire le fasi di mercato perché può tornare utile non è una cosa immediata prima di capire una fase di mercato magari prendete qualche stop però dopo qualche stop capito che qui le cose non vanno più come prima aspetta che mi fermo un attimo aspetta che mi fermo un secondo e in quel caso risparmiate soldi perché prendete meno stop almeno questo è quello che io ho riscontrato poi nel corso del tempo fatta questa premia fatto questo bel discorsetto adesso vediamo di fare qualche operazione se ci sarà se c'è se ci sarà l'occasione allora quindi gvp chf è è questo mi fa piacere che ti sia piaciuta luca questa analisi anche della gestione monetaria che a volte può cambiare sia soggettivamente che oggettivamente passiamo invece sempre a parlare di sterlina ma contro il dollaro neozelandese quindi siamo su gvpnz di gvpnz di strumento che seguiamo abbiamo seguito ultimamente se non sbaglio abbiamo preso anche un target beh va bello vediamo su uno stop no ho detto una cavolata non abbiamo preso niente forse mi sbaglio con un altro strumento comunque guardate abbiamo massimi e minimi via via crescenti ok molto interessante massimi e minimi via via crescenti eccoci qua impulso e sì il disegno fatto allora impulso ritracciamento continuazione dell'impulso e via così ok quindi è interessante notare anche le candele ad alta volatilità che chiudono sui cioè candele ad alta volatilità di colore verde quindi positive mentre quelle rosse vedete sì ci sono ma i corpi sono molto piccoli ovviamente gvpnz di un cross ad alta volatilità in generale quindi fate attenzione forse che bisogna lasciare un po più di spazio rispetto al solito ma mi piace perché allora prima di ciò che mi piaceva perché io vedo questo io vedo un impulso che parte da qui finisce qui e da qui inizia il ritracciamento e dove finisce potrebbe essere finito qui ma non è detto non è detto quindi noi cosa possiamo fare intanto intanto noi possiamo fare così così e così una volta che abbiamo individuato questi livelli che sono gli eventuali obiettivi cerchiamo di capire qual è il target che ha più senso e secondo me il target che ha più senso in realtà sarebbe questo o questo allora noi li tracciamo tutti e due vedete più guardo il petrolio più soffro dice luca cosa sta succedendo eh ragazzi è andato a target io l'idea era giusta e ho forse messo lo stop loss un po troppo stretto però adesso lo andiamo a vedere sì perché io dovevo aspettare che i prezzi chiudessero al di sotto di questo livello è invece non ho atteso ho avuto un po troppa fretta nel chiudere saremmo andati a target avremmo fatto i nostri 300 300 punti e va bene cose che succedono in ogni caso noi stiamo vedendo GPNZD allora quali sono i livelli più interessanti come obiettivo allora abbiamo 1.9890 e 2.010 ma allora direi che se entriamo qui 1.9890 è già è già troppo nel senso che è già bello lontano qui quindi ci dimentichiamo questo come target perché il target finale è 1.98 mentre come target primario abbiamo i massimi precedenti quindi stiamo parlando di 1.9625 1.9625 potrebbe essere un ottimo obiettivo entriamo adesso non entriamo adesso che facciamo allora qui tenete presente che se entriamo che se entriamo ci può stare però non ha senso a mio avviso portare a casa la posizione se chiudiamo qui se arriviamo sui massimi precedenti per quale motivo sempre è che dobbiamo mantenere una certa qualità nel nei vari rapporti rischio rendimento delle nostre operazioni visto che se entriamo qui lo stop loss deve essere sotto questo minimo e tra l'altro è anche il minimo di questa candela ad alta volatilità che in precedenza aveva rotto le resistenze ci accorgiamo che se usciamo qui abbiamo un rapporto rischio rendimento di 1 a 1 non va bene quindi dobbiamo alzare ulteriormente i nostri obiettivi e andare a 1.98 e 90 ecco qua in questo caso abbiamo un rapporto rischio rendimento 1 a 2 quindi un'operazione che si può fare attenzione però perché se noi entriamo qui abbiamo 214 punti di stop vabbè insomma più di 200 punti che cosa vuol dire questo che poi se andiamo in stop non dobbiamo dire che abbiamo preso uno stop grande no lo stop loss è sempre quello quindi se io prendo lo stop qui quanto perdo in percentuale del mio conto 1 per cento 2 per cento 3 per cento qual è la vostra percentuale di rischio che applicate solitamente per i vostri trade quella deve essere e in base a quello si va a scegliere poi quella che è l'esposizione quindi si compra 1 2 3 cento lotti quello che volete insomma io la vedo così su gbpn zd interessante perché a livello tecnico potrebbe apprezzarsi chiaramente bisogna seguire un po la sterlina sterlina che potrebbe dare delle ottime opportunità nei prossimi giorni comunque teniamo d'occhio questo gbpn zd e vediamo se entrare oggi o attendere ulteriori conferma non sarebbe male entrare adesso e ve lo dico non sarebbe male entrare adesso quanto abbiamo 200 punti di stop più o meno 200 220 entro alexandri ci prova ed entra l'on si secondo me potrebbe essere interessante attendo la chiusura h1 quindi alle 17 poi vediamo cosa fare poi lo segno nel gruppo trades club comunque insomma lo dirò anche nella video analisi di domani gbphf l'abbiamo fatto gbpn zd l'abbiamo fatto la cosa però che mi viene in mente è questa se abbiamo una view rialzista su gbpn zd e abbiamo una view ribassista su gbp chf dovremmo entrare short su nzd chf giusto perché se su gbp abbiamo il franco svizzero che è più forte della sterlina secondo la nostra view da questa parte invece abbiamo la sterlina che è più forte del dollaro neozelandese vuol dire che dobbiamo andare a vedere il cross valutario nzd chf e entrare short quindi lo vediamo nzd chf eccolo qua eccolo allora eh eh l'avevo tradato se abbiamo fatto uno short questo qui l'avevamo preso proprio alla grande anche mi se non sbaglio eh poi avevo preso anche uno stop gestito male però vedete qui abbiamo preso un bello short poi per la fretta ho aperto un altro short e ho sbagliato dovevo attendere il ritracciamento e si che lo dico sempre eh c'è predico bene razzolo male a volte può succedere in ogni caso ecco qua impulso ritracciamento dove possiamo arrivare con nzd chf 0.6120 0.6060 si che non i livelli visti anche una settimana fa quindi avete capito il ragionamento che abbiamo fatto? ditemi sì o no perché abbiamo visto gbp chf gbp nzd e poi abbiamo capito che potrebbe esserci del buone opportunità ribassiste su nzd chf è chiaro questo ragionamento tra cross valutari sì sì correlato ok emmanuele ok sì certo ottimo è che dovevo farlo prima questo questo ragionamento però noi vediamo un attimo cosa succede qua bello mi piace mi piacerebbe fare un bello shortino è un po' tardi però aspettiamo aspettiamo teniamo d'occhio anche nzd chf short molto semplicemente ok allora andiamo avanti e vediamo usd cad allora l'economy diceva che era short usd cad da questi livelli all'incirca andiamo ad analizzare quello che è il trend cosa sta facendo s&p eh bello qua eh ecco se siete long e volete alzare lo stop profit io non lo faccio perché ho portato a casa a parte della posizione quindi voglio lasciare un po' di spazio al mercato in ogni caso cosa potreste fare? spostare lo stop profit sotto questo minimo quindi 4031 4032 qua sotto può essere una buona soluzione per quanto invece riguarda usd cad andiamo ad analizzare quello che è il trend allora eravamo all'interno di un trend rialzista come si può notare dall'immagine eccolo qua il trend ok abbiamo impulso ritracciamento continuazione ritracciamento continuazione bene poi però siamo tornati al di sotto di questa zona ma perché lo traccio con il disegno almeno lo fa dritto eccolo qua siamo tornati al di sotto di quella che era che era che era il supporto che doveva funzionare per far proseguire il trend rialzista di usd cad questo supporto non ha funzionato ed ora e ora sta e ora funge da resistenza sia il giorno 18 sia ieri che era il 25 quindi attenzione perché siamo di fronte a un potenziale trend nuovo trend ribassista che può andare che può poi portare il buono usd cad in primis su questo primo obiettivo 1.27 1.27 1.27 1.25 e poi successivamente successivamente sui minimi di periodo in area 1.24 1.75 però è ancora presto per parlare di quel livello lì attenzione perché comunque potrebbe essere questa un'opportunità interessante quindi andiamo a tracciare l'impulso e il ritracciamento eccoci qui e questi sono gli obiettivi quindi abbiamo parlato di 1.27 1.26 1.26 e 40 1.25 e 75 e poi guardate dove è l'estensione massima 1.24 e 50 esattamente sui minimi di periodo quindi questa è la situazione quando entriamo short è la domanda più importante entriamo short vediamolo non dobbiamo avere fretta in questi casi attendiamo la chiusura giornaliera e poi valutiamo uno short allora attenzione ragazzi se noi entriamo short dobbiamo sapere sempre qual è il nostro stop loss il nostro stop il nostro scusate stop loss è questo anzi è la chiusura giornaliera al di sopra del livello di 1.28 se torniamo sopra qui si può tornare a parlare di log e i nostri short vanno a farsi benedire ora a vederla così noi siamo di fronte se dovessimo entrare adesso a uno stop loss di più di 100 punti e un primo obiettivo di 100 non mi piace poi certo c'è un altro obiettivo a 160 un altro obiettivo a 220 però quando siamo di fronte a queste cose io non sono entusiasta se fossimo entrati qui saremmo stati dei fenomeni allora andava bene entrare qui riduce drasticamente la qualità del rapporto di screndimento quindi insomma farei attenzione a operare però questa insomma è la mia view questo è quello che penso su questo è quello che penso su USDCAD occhio massimo decrescente su S&P 500 vedete secondo me qua scende un po' e forse troviamo un'occasione di acquisto su questi livelli tendenza rialzista se non se non se tiene questa zona un acquisto ci può anche stare farlo qui no noi abbiamo acquistato qui se si vuole acquistare un'altra volta ci può fare da qui più o meno con uno stop loss di un 10-15 punti e un target di 45 bene andiamo avanti allora maledetto petrolio allora vediamo cos'è successo sul petrolio il nostro obiettivo era 114 no? mi pare che era anche abbastanza preso come target price allora come avevamo detto in questi giorni comunque in generale la mia view era rialzista view rialzista minimi minimi via via crescenti minimi via via crescenti massimi crescenti obiettivo questa zona qui 114 che sono i massimi del 16 17 maggio e anche del 23 e 24 marzo bene perché ero posizionato long ero posizionato long perché ho notato questo impulso e ritracciamento oh ecco qua impulso ritracciamento candela del giorno 19 5 è una candela interessante a livello rialzista chiaramente perché è un numero importante al ribasso non è un hammer sicuramente ma mi fa capire che qui poteva finire il ritracciamento e quindi eravamo entrati qui più o meno ho messo lo stop loss troppo stretto avevo anche studiato il time frame h1 perché eravamo entrati qui più o meno tipo 111 una cosa del genere e avevo anche detto avevo anche ma eh vedete anche dopo tanti anni a volte non si fa poi mai quello che si dice no mai ma può succedere a volte quindi io avevo detto se i prezzi che eravamo qui entriamo l'ongomia può anche essere che i prezzi scendono ma io non chiudo fin quando non vanno al di sotto di questa zona guardate quante ombre qui eh se vanno sotto qui è chiaro che la struttura rialzista è compromessa però se questa zona tiene vuoi lasciare ancora un po' più di spazio anche 108 e 75 infatti il mio stop era 108 e 80 ho deciso di chiudere prima vabbè usciando dalla posizione non so per quale motivo ho chiuso prima se voi avete lasciato siete stati bravi io ho fatto un errore però poi finalmente i prezzi sono partiti al rialzo e anche grazie a questi errori noi che cosa capiamo e grazie a questi errori noi capiamo che se nel trading online non hai pazienza perdi i soldi perdi i soldi se hai pazienza e sei anche un attimo capace di fare le analisi e basta tu fai l'analisi metti lì metti lo stop loss se va sotto qui perdi ma non devi chiudere prima perché bisogna cambiare idea in corso d'opera non bisogna farlo però succede a tutti magari guardi 100.000 grafici al giorno diversi tempi e diverse operazioni e a volte magari ti scappa qualche errore ecco questo è stato il mio e al 114 ci siamo arrivati alla perfezione 109.50 era lo stop? non me lo ricordo era 109.50? può essere non me lo ricordo se era 109.50 allora l'avrebbe preso se era 108.80 non l'avrebbe preso dopo vado a guardare comunque se era 109.50 ho sbagliato a metterlo comunque ci sarebbe sempre un errore perché non si deve mettere qui si deve mettere al di sotto della zona piena di ombre vabbè comunque insomma poi l'operazione era interessante però noi dobbiamo vedere adesso cosa possiamo fare cosa possiamo fare su il petrolio torniamo sul daily e vediamo che i massimi precedenti sono stati raggiunti ora sul ritracciamento entriamo long secondo me sì secondo me sul ritracciamento su un eventuale ribasso possiamo entrare long perché se la zona poi dei 114 ci viene rotta andiamo a 117 però sapete che il mio obiettivo è 120 no? di questo l'obiettivo di questo periodo secondo me è 120 sì questo è l'obiettivo quindi valutiamo un attimo la chiusura giornaliera dopo la chiusura giornaliera quindi se stasera chiude domani vediamo qual è la chiusura se chiude e ci dà un segnale rialzista tutti contenti possiamo valutare poi dei long sui ribassi se invece mi chiude con un ombre importante al rialzo cambia tutto non valuteremo dei long ovviamente io parlo adesso che sono le 16.51 e vi parlo non pensando ma ipotizzando che la candela chiude così non è detto che chiude così può scusate può anche crearsi un ombre rialzista il segnale non è più long e non si opera più al rialzo come sempre dobbiamo essere pronti a cambiare idea sul time frame giornaliero figuriamoci facendo scalping quanto veloci bisogna essere quella è la difficoltà più importante quando si va a fare trading sul time frame giornaliero rispetto a time frame a un minuto è solo quella la differenza solo solo tra virgolette è la cosa più difficile detto ciò il petrolio è andato che cosa andiamo a vedere quindi abbiamo visto un bel po' di strumenti devo dire mancano 8 minuti USD Yen sì ho abbassato lo stop loss ho diminuito anche parte della posizione come vedete un poca roba poi questo è il conto dimostrativo che non è così capitalizzato insomma ci sono un po' di soldi ma non tantissimi in ogni caso noi dobbiamo sempre rispettare quello che è il money management operazione stop 1% del nostro conto fine e abbiamo risolto non è difficile da calcolare allora perché qui ho diminuito l'esposizione ho abbassato lo stop loss perché prima di capire il perché devo andare ad analizzare quello che è il time frame giornaliero noi stiamo cercando di prendere un altro short avevamo preso uno short da qui a qui questi 140 punti fino a 128 poi attenzione se questi minimi vengono rotti è possibile che torniamo anche sotto a 126 e poi 125 cosa sta succedendo in questi giorni allora ieri no l'altro ieri c'è stata la rottura al ribasso di questo livello ieri il test e oggi non si sa che cosa sta accadendo anche qui un po' di indecisione da parte degli operatori devo dire la cosa che però mi ha fatto non scalpore ma che attendevo era proprio la rottura ma se andiamo a commentarla sul time frame orario un bel aumento di volatilità di questo tipo vedete questa mattina in apertura abbiamo assistito a un apprezzamento dello yen nei confronti del dollaro americano e quindi ho detto questo è un bel segno ribassista adesso da qui diciamo che se la pressione ribassista c'è da qui si inizia a scendere e invece c'è stato un recupero questo non mi è piaciuto questo non mi è piaciuto quindi mentre prima avevamo uno stop loss più grande lo abbiamo abbassato perché da una convinzione facciamo quindi da 1 a 5 adesso si è abbassata per questo movimento che è stato fatto ora è anche importante capire quando bisogna abbassare gli stop loss e perché che farlo questo è un esempio lampante io mantengo la mia posizione mantengo lo short e vediamo come chiude quest'oggi o comunque anche come chiude quest'ora qui perché se alle tra 5 minuti torna nuovamente sotto 127,20 va bene se chiude sopra le probabilità che i prezzi arrivino a stop sono più alte questa è la mia view su usd yen prima di salutarvi e con l'ultimo con l'ultimo strumento vi ricordo che a brevissimo faremo la seconda lezione del corso trading long e short sulle azioni italiane e qui impareremo a leggere le posizioni nette short degli edge fund quindi posizioni allo scoperto sul mercato azionario italiano insieme anche agli internal dealing che cosa sono e come sfruttarli la scorsa volta non l'abbiamo vista ma lo vedremo questa volta quindi importantissimo oltre poi alla strategia operativa e all'utilizzo dei vari indicatori come si fa come si usano eccetera eccetera quindi interessantissima come lezione ancora il 40% di sconto se volete acquistare il corso detto ciò andiamo avanti attenzione qua in basso a destra mi compare AC Milan hashtag sempre Milan io non posso che essere d'accordo rinnovo i miei complimenti di campioni d'Italia e poi anche comunque tutti gli altri che insomma hanno portato avanti un fantastico campionato di calcio sapete io sono un appassionato comunque a parte questa breve bravissima parentesi sportiva passiamo a quello che è il bene rifugio per eccellenza eccoci qui bene rifugio per eccellenza chi è che mi chiama quest'ora non lo so allora dove siamo con il gold come detto questa mattina il gold allora vi cancello questo 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 cancello tutto facciamo tutto da capo allora vedete che il trend è ribassista il trend è palesemente ribassista il primario ci sono guardate qui ci sono dei primi segnali di inversione in quanto abbiamo assistito a una bella ripresa da un livello chiave 1800 vedete c'è stato un hammer rialzista e poi una continuazione al rialzo ora dobbiamo capire se questo è solo un ritracciamento dell'impulso oppure se torniamo a scendere è chiaro che la rottura del minimo di questa candela aprirebbe la strada a nuovi ribassi ora quindi io non mi interesso degli short ma mi interesso dei log siamo esattamente o scusatemi siamo esattamente su una zona supportiva che avevo evidenziato prima la re evidenzia ora eccola qui siamo qui e quindi tutti dicono siamo su una buona zona supportiva e entriamo long allora si può entrare long è vero è un po' rischioso se però entriamo long dobbiamo mettere uno stop loss dove alla chiusura giornaliera alla di sotto di questo livello cioè del minimo di oggi vediamo con i target con l'indicatore target indicator che cosa succede ecco qua abbiamo degli obiettivi 1900 è sicuramente l'obiettivo più importante molto chiaro 1900 1905 era anche la reddizione era il supporto che aveva funzionato qui e rotto poi al ribasso con forza qui e poi questo livello si è trasformato in resistenza cosa che potrebbe succedere nuovamente in ogni caso se entriamo long quello è l'obiettivo 1900 dollari per oncia prima però c'è un livello intermedio che è esattamente 1885 questa è la mia view io non entro subito long attendo la chiusura giornaliera perché secondo me entrare long subito potrebbe essere un po' rischioso non escludo infatti un ritorno in area 1830 però non voglio nemmeno fare commenti frettolosi perché come detto vorrei attenderla quella che è la chiusura daily allora ragazzi io direi che oggi abbiamo visto tutto abbiamo fatto un sacco di analisi spero che vi siano piaciute noi ci vediamo alla sessione di alla seconda lezione del corso di con me e Pietro Riglia e qua ragazzi ha chiuso ore 17 guardate un'altra candellaria altista ha rotto questi livelli qua andiamo a 4070 spero e quindi abbiamo fatto al momento 50 punti di S&P 500 in un giorno quindi direi che siamo contenti spero che lo abbiano fatto tutti io con questo ho concluso vi ringrazio come sempre per aver partecipato ci vediamo come sempre domani su investire.biz o al corso se avete delle domande c'è la chat sul sito rispondiamo a lista i ragazzi più che io comunque qui in basso a destra rispondiamo all'istante quindi cerchiamo di dare l'assistenza più di qualità più alta possibile adesso dovrebbe venire fuori la chat comunque ce l'avete qui in basso a destra io forse non viene più fuori perché io l'ho chiusa e con questo ho concluso buona serata e buon trading a tutti e buon trading